Benvenuti su Gossip Globe. Prima di continuare ricorda di mettere un like, seguire il canale ed attivare la campanella per restare sempre aggiornato. Perla Batiero ha fatto un'altra figura imbarazzante. Vuoi o non vuoi, come lei stessa direbbe con uno dei suoi tormentoni famosi, Perla continua a essere al centro dell'attenzione, sia per i suoi fan che per i detrattori. Nonostante le sue aspirazioni nel mondo della televisione non si siano ancora realizzate, è sempre sotto i riflettori, specialmente sui social media. Recentemente, è diventato virale un video in cui Perla ha pronunciato qualcosa di sbagliato senza rendersene conto, scatenando una valanga di commenti online. Questo incidente ha riportato alla mente dei suoi seguaci altri episodi simili accaduti in passato, rendendo il tutto ancora più imbarazzante. Da quando è uscita dal Grande Fratello, una delle principali attività di Perla è stata la promozione di vari prodotti tramite i social media. Tuttavia, l'ultima campagna pubblicitaria riguardava un caricabatterie portatile per il telefono cellulare, chiamato Powerbank. Nel suo spot social, Perla ha pronunciato erroneamente Powerbank, scatenando l'ilarità del web. Questo errore ha portato alla mente degli utenti altri momenti in cui Perla ha inciampato nella pronuncia, persino nella sua lingua madre. La sua rivale Beatrice Luzzi ha recentemente ricordato come né Perla né Greta sapessero chi fosse Omero, scambiandolo per un osso. Anche il fidanzato di Perla ha confermato che la ragazza ha qualche difficoltà con le lingue, mettendo in dubbio la sua capacità di partecipare a Pechino Express. Ma le gaff non finiscono qui, alcuni utenti hanno notato che nel video della Powerbank, Perla ha anche commesso un errore nel testo promozionale, probabilmente copiato e incollato senza pensarci due volte, compreso un frammento che probabilmente era destinato solo al suo staff. E tu, cosa ne pensi di tutto ciò? Se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un like e un commento qui sotto. Il tuo supporto significa molto. Grazie.